Sarà una coincidenza o c'è un incendiario seriale di Mini Minor, ma a distanza di solo 30 minuti sono state date le fiamme, probabilmente perché la natura dei roghi ancora non si conosce, due auto dello stesso tipo, due Mini Cooper. La prima auto in fiamme in via degli orti all'1.40, una Mini Minor. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco ed hanno coinvolto anche un'altra vettura, una Fiat Panda parcheggiata accanto. I carabinieri stanno accertando la natura del fatto, anche se si presuppone che sia di origine dolosa. L'altra macchina è stata incendiata all'1.10 in via Don Minzoni.